Nome. John Lynch. Soprannome. L'assassino dell'Ascia di Berrima. Numero vittime. 10. Modus operandi. Ascia. John Lynch è nato nel 1813 a Cavan, in Irlanda. Poco si sa della sua infanzia. I primi problemi con la giustizia li ebbe nel 1830, quando fu condannato per falsi pretesti e due anni dopo fu mandato in Australia per lavorare da carcerato. Il primo luglio 1832, all'età di 19 anni, fu fatto partire per l'Australia, a Berrima, un villaggio fondato quell'anno e situato negli altopiani meridionali del New South Wales, a circa 130 km da Sydney. Lynch era un uomo di bassa statura ma di corporatura solida. Lavorava in varie fattorie prima di unirsi a una banda criminale. Un incidente del 1835, vide lui e altri due membri della banda, coinvolti nell'uccisione di Tom Smith, dopo che Smith aveva fornito prove per incriminare banda di Lynch. Nonostante la sua ammissione al delitto, la giuria non gli credette e lo lasciò libero, mentre gli altri due furono impiccati. Iniziò a commettere crimini come furto di bestiame e di carri da trasporto merci. Ma ben presto, da piccoli crimini, passò ad una vera e propria follia omicida. Una mattina, mentre si dirigeva verso Sydney con un carro Mary rubato, vide due ragazzi fuori da una casa. Gli chiese gentilmente se potevano seguirlo verso la sua fattoria per aiutarlo a radunare il bestiame. Una volta lontani, sicuro di non essere visto da nessuno, li colpì alla testa con un'ascia, uccidendoli entrambi. Proseguì, come se nulla fosse, il suo viaggio verso la città. Durante il suo ritorno da Sydney, vide un padre con suo figlio, che stavano cercando di radunare il loro bestiame. Quel bestiame cadde subito all'occhio dell'assassino che non perse tempo. Uccise a colpi d'ascia padre e figlio. I suoi ultimi omicidi risalgono al 1941. Il killer si ricordò che la famiglia Mulligan li doveva 30 sterline per la merce rubata che li aveva venduto a credito. Decise così di far loro visita. Fu un vero e proprio massacro. Li uccise tutti e quattro a colpi d'ascia, costruì una pira, e gli diede fuoco. Facendo finta di nulla, contattò i parenti della famiglia massacrata per comprare la fattoria. La mattina del 19 febbraio 1841, Hugh Tinney era in viaggio per Sydney con una mandria di bestiame. Dopo essersi fermato vicino al ponte Ironstone, che attraversa il fiume Vincarribe, ai margini di Berrima, Tinney ha notato un dingo che frugava nel sottobosco cercando di raggiungere qualunque cosa fosse nascosta lì. Tinney schiacciò il dingo e, incuriosito, fece un'ispezione più attenta. Quello che trovò lo fecerà brividire. Rivelò il corpo di un uomo con la testa spaccata in due. Era stato colpito ripetutamente da un grosso oggetto contondente. Quell'uomo verrà poi identificato come un bracciante locale di nome Kerms Landregan. Landregan è stato visto l'ultima volta solo due sere prima, mentre cenava in compagnia di un contadino che si faceva chiamare John Dan Levy. La polizia ha così chiamato il proprietario di quella fattoria che era stata la casa di una famiglia chiamata Mulligan ma ora era di proprietà di Dan Levy. Una testimone si fece avanti e raccontò alla polizia che in realtà, Dan Levy e Lynch erano la stessa persona. Con queste informazioni e altre prove forti raccolte dalla polizia il 21 febbraio 1841, Lynch fu accusato dell'omicidio di Landregan. Il processo di Lynch iniziò nel tribunale di Berrima il 21 marzo 1842. Lynch ha mantenuto la sua dichiarazione di innocenza, ma la giuria lo ha ritenuto colpevole in meno di un'ora. Condannato per un solo omicidio, era fortemente sospettato per un totale di 10. Lynch fu giustiziato per impiccagione nella prigione di Berrima il 22 aprile 1842. 142.